Su una sola cosa sono tutti d'accordo, maggioranza e opposizione. Il casermone popolare da 120 appartamenti, detto ferro di cavallo, a Rancitelli, va demolito senza se e senza ma. Le differenze emergono quando ci si domanda cosa dovrebbe essere realizzato al suo posto. Le due palazzine innovative, con 56 appartamenti, negozi e servizi, come vuole la maggioranza che sposa il progetto ATER? O invece un'area priva di alloggi ma piena di servizi e di spazi per la collettività e i cittadini? Le perplessità del Movimento 5 Stelle e del centro-sinistra ruotano tutte attorno alla logica del ghetto che, con ulteriori appartamenti di edilizia popolare, verrebbe in qualche modo confermata, mentre occorrerebbe aprire ogni quartiere all'altro, ovviamente, purché non sia abusivo. Ed è così che in aula questa mattina, dove si sarebbe dovuto votare per la variante propedeutica alla realizzazione del progetto ATER, sono piovuti una serie di emendamenti per leggere i quali il Consiglio, dopo la discussione, è stato sospeso. Quindi, oggi, niente voto. Noi sosteniamo con forza le richieste di tutta la comunità dei residenti di Rancitelli, che chiedono al Comune e all'ATER di non ricostruire delle nuove residenze. In un quartiere in cui ci sono già più di 800 appartamenti di proprietà dell'ATER, i residenti chiedono di poter avere, finalmente, quello che manca, cioè dei servizi alla cittadinanza, locali per servizi, per la sede della Polizia Municipale, per la biblioteca, per la sede stessa dell'ATER, che paradossalmente, invece, ha i propri uffici in centro-città. C'è bisogno di una forza politica e di una decisione coraggiosa politica che, dopo aver deciso di demolire, giustamente, quello che è il simbolo di degrado della più grande periferia della nostra città, va ricostruito, ancora una volta come simbolo, un elemento di diversificazione dal passato. Siamo assolutamente consapevoli della necessità di case e di case che abbiano un prezzo, diciamo, concorrenziale. Quello che si chiede è che, siccome l'ATER ha altri terreni di proprietà, sia nel comune di Pescara, sia appena fuori, che questa ricostruzione possa avvenire in un altro luogo. Si parla di mixite, cioè di non concentrare le stesse destinazioni, quindi residenziali, tutte nella stessa zona, tutte nella stessa area. Rancitelli ha già dato. Questa polemica, che ritengo speciosa, strumentale, mi sorprende, perché credo che nessuno a Pescara possa mettere in discussione il fatto che stiamo facendo un'operazione storica, l'abbattimento del ferro di cavallo, che è da sempre un cancro della nostra città. Siamo riusciti a liberare quell'immobile dove ci sono 120 appartamenti da coloro che l'abitavano. Quelli che avevano diritto li abbiamo trasferiti in altri alloggi che l'Ater ha ristrutturato, quelli che dovevano essere messi fuori perché erano abusivi, li abbiamo messi fuori e stiamo completando quest'operazione che finirà entro settembre. Cercare di bloccare in consiglio quest'operazione con mille emendamenti che poi sono tutti quanti fuori dalla norma, è triste secondo me. Pescara ha bisogno di edilizia residenziale pubblica. Io penso che quello spazio in parte, perché una parte di quell'area sicuramente sarà destinata a spazi per la collettività, per la comunità, a negozi, a spazi commerciali, ma anche alla sede della Polizia Municipale o alla stessa sede dell'Ater, per esempio. Una parte potrà essere destinata ad alloggi per i giovani, per esempio, di un gli stoc 2. Un esplazio in cui si occupa il fatto ristruttore. . Grazie a tutti